benvenuto da parte mia, da parte del dettivo e da parte di tutti i docenti. Vi do il tenuto a questo incontro che abbiamo fortemente voluto perché siamo convinti che è utile a chi fa impresa sul nostro dettore ma anche in questo momento dappertutto. Anzi ci vuole proprio coraggio per fare impresa. Prima di iniziare permettere di ringraziare il Sindaco Nomasi e l'assistore dei che ci hanno permesso di ospitare questo incontro e la sala consigliare. Le ringrazio ancora di più per la presenza e il supporto che in questi mesi ci hanno dato costantemente, questo lo sottolineo. Grazie ancora. Grazie al vicepresidente del Consiglio regionale Cristian Casiti. Grazie all'assessore regionale del Consiglio economico Alessandro Le Mioci. Grazie per l'assistore del Consiglio. Non è scontato poter avere personalità di respiro regionale, ma questo ci è veramente compenso del due dei miei. Il primo è Calimera c'è e riceve un riconoscimento di visibilità anche in ambito regionale. Il secondo, la regione c'è e tocca a noi saper colpire gli spunti e le proposte che da esse animano. Un ultimo pensiero. Prima di passare la valora ai nostri giusti ospiti. Rappresento un'associazione che nel suo acronimo si tenizza una grandissima parola. Ali. Le ali servono per volare, ma non tutti i pennuti utilizzano lo stesso modo. Anzi, alcuni manco li utilizzano. Questa sera faccio un invito venuto a me stesso, estendendolo a voi a tutti i voi partecipanti. Con queste nuove iniziative la regione sta intanto e ci sta invitando a sticcare il voto. Imparliamo con l'alleato. Facciamo per noi, per le nostre famiglie, per la nostra comunità e per il nostro vettore. Non prendiamoci alle solite antiche visioni del proprio otticeo. Dobbiamo guardare il futuro con occhi dei protagonisti, tutti quanti insieme. e di un nuovo piano di presa e di presidenza. Grazie.